Buongiorno, sono Erika Bertolissi e in questo video vi mostrerò come funziona e che cos'è l'applicazione Asana. Lo scopo di Asana è quello di aiutare i team a monitorare il loro lavoro, consentendo di gestire online attività e progetti. Per accedere alla registrazione obbligatoria e basta inserire la propria mail all'interno di questo spazio. In questo caso io ho già effettuato l'accesso perché il caricamento richiede un po' di tempo. Dopo aver effettuato l'accesso apparirà questa schermata dove sulla sinistra potrete cliccando il simbolo più invitare le persone che volete che collaborino al vostro progetto inserendo semplicemente la loro mail all'interno di questo spazio. La parte in alto è divisa in My Task, Inbox e Dashboard. I task sono tutti i compiti che verranno assegnati nei vari progetti. Tornando poi in basso a sinistra potrete inserire, sempre cliccando il tasto più, inserire il vostro progetto, dandogli il nome che preferite, in questo caso lo chiamiamo Basi di Asana. Potete aggiungere la descrizione se necessario e decidere la disposizione e la privacy, ovvero decidere se il progetto debba rimanere privato o se volete renderlo pubblico. Crediamo ora il progetto. Come vedrete adesso il progetto appare in basso a sinistra. Ad ogni progetto è possibile assegnare un colore che sarà lo stesso nei task e che vi aiuterà a non confondermi tra un progetto e l'altro. Per fare questo basta cliccare su questo simbolo, scegliere il colore che preferite, ad esempio blu e come vediamo adesso Basi di Asana, che è il nostro progetto, è diventato blu. Per aggiungere un task, un compito in questo progetto, basta cliccare su Add task e apparirà questa schermata dove sulla sinistra scriveremo il nome del task, ad esempio introduzione, e sulla destra potremo ad esempio aggiungere un allegato, aggiungere un'escrizione, aggiungere un commento e decidere la data alla termine del quale il compito deve essere terminato, ad esempio il 20 gennaio. La data apparirà adesso alla destra del task e sempre alla destra del task sarà possibile cliccando questo simbolo assegnare il task a qualcuno, ad esempio possiamo segnarlo a me stessa o a qualcun altro inserendo il suo nome o la mail. In questo caso lo segniamo a me stessa. Ora il task ovviamente non è ancora stato completato, quindi apparirà nei task incompleti come vediamo. Quando però questo task sarà completato potremo cliccare su Marca come completato questo qua, marcandolo e il task andrà ovviamente nei task completati, quindi se andiamo a cercarlo sarà come vediamo nell'attività completate. Eccolo qua infatti. Torniamo adesso nei task incompleti e vediamo che oltre ad aggiungere un task si può aggiungere anche una sezione che serve per riorganizzare al meglio i compiti e distinguerli dagli altri. Scriviamo ad esempio le basi e andiamo nelle basi di lavoro che è il progetto che avevo creato io per farvi vedere meglio la differenza tra sezioni e compiti task. Infatti analisi, pubblicità e fase finale sono le sezioni mentre le altre sono i compiti. Spero che questo video vi sia stato utile. Grazie, arrivederci.